Benvenuti alla Gazzetta della Spezia, siamo qui alla festa della marineria, oggi è domenica, l'ultimo giorno, siamo in compagnia di Carlo Emilio Pontali che è il presidente di Vivere Insieme al centro di servizi per il volontariato insieme alle associazioni che ne fanno parte, alcuni presenti qui con noi. Vogliamo chiedere a Emilio il significato della presenza di Vivere Insieme qui alla festa della marineria e più in generale il significato e l'importanza del volontariato per la nostra città e la nostra provincia? Il centro di servizio rappresenta 60 associazioni socie che sono qui visibili nei loghi che costituiscono il centro di servizio. Il centro di servizio svolge un ruolo importante perché ha la funzione stabilita dalla legge di promuovere il volontariato nei suoi valori, tenendo soprattutto che il volontariato deve essere rete, deve essere autore di coesione sociale e deve essere anche autore dei valori, che sono i valori del dono, della disponibilità di tutto. Il significato è un po' questo. Noi è la seconda volta che veniamo alla marineria, adesso passeremo un po' a intervistare qualche associazione che è presente perché tutte non sono potute venire, però c'è una rappresentanza abbastanza nutrita di associazioni. Faremo in modo di dare lo spazio a ognuno. Nel frattempo salutiamo Emilio Pontali e vivere insieme che ci ha accolto e cominciamo a presentarvi quelle che sono le associazioni presenti.